Noi, Stato italiano, oggi già viviamo sul debito pubblico, ma non sul debito pubblico della nonna che sottoscrivevamo noi cittadini. Viviamo su un debito pubblico che viene emesso in misura molto maggiore dell'anno scorso per pagare le casse integrazioni, gli stipendi, le pensioni e tutte le spese pubbliche che quest'anno in particolare, ma già comunque nelle previsioni prima del Covid, non potevano essere coperte dal bilancio ordinario dello Stato per mancanza, perché avremmo chiuso in deficit. Adesso molto di più, ovviamente, sia perché ci sono i costi straordinari, sia perché ci sarà un minore gettito fiscale a causa del fatto che il PIL scenderà del 10%. Noi stiamo emettendo molti più titoli di Stato, 100 miliardi circa in più. Questi titoli di Stato vanno sul mercato e vengono comprati in buona parte, non del tutto, ma in buona parte prevalente dal sistema delle banche centrali, quindi dalla Banca d'Italia sull'autorizzazione della Banca Centrale Europea. Quindi è già un mercato del debito pubblico che è targato Europa, senza le istituzioni europee. Questo debito pubblico, per venderlo, avremmo dovuto pagarlo in termini di spread un botto di soldi in più, ammesso e non concesso di trovare poi chi lo prendesse a prezzi molto più cari. Quindi il MES è soltanto un nome diverso che daremo a un pezzo di debito pubblico in più, che comunque dovremmo fare fin quando non riparte l'economia. Quindi la questione e dice, ma allora però perché se la prendono con me? Perché per prendere quei soldi a tassi vantaggiosi dovremmo rispondere dell'uso che ne verrà fatto. Io dico, e ci mancherebbe, e ci mancherebbe. Guardate che è sospeso il patto di stabilità e cresce, non è annullato il patto di stabilità. Ma ci pare, può parere a noi cittadini italiani che adesso improvvisamente gli altri stati membri dell'Unione Europea, con conti migliori dei nostri, quindi sicuramente la Germania, ma per ora ancora anche la Francia, l'Oran del Belgio, eccetera, ci regano dei soldi perché siamo simpatici, suoniamo il mandolino, facciamo la pizza buona, ma stiamo scherzando. Sono soldi che tra 10 anni, 15 anni, perché certamente la pandemia ha cambiato delle cartiere, devono essere restituiti, in base a regole che non scriveremo noi, quindi quelle del MES sono soltanto regole del tipo, della stessa famiglia, di quelle che già stiamo quotidianamente accettando per vivere, per pagare gli stipendi, le pensioni e le pensioni. Scusami se ti interrompo, chi si oppone però dice tra le altre cose, ma com'è che nessuno Stato finora l'ha chiesto? E noi saremmo i primi e quindi ci esporremmo, come ha anche detto il Presidente del Consiglio in conferenza stampa, allo stigma, cioè al giudizio negativo dei mercati perché l'Italia ammetterebbe di essere in difficoltà. Se abbiamo lo spread ai livelli della Grecia, il rapporto debito-PIL era già il secondo d'Europa nel peggio, dopo quello della Grecia, che si è beccata la Troica. Quindi lo stigma, mi dispiace, ma ce lo siamo un po' tolti come popolo, perché la prima fase l'abbiamo gestita come popolo, ripeto, più che come decisioni politiche, meglio di altre, o forse abbiamo avuto la buona stella, non lo so. E a questo punto formalizzarsi sulle modalità delle regole alle quali rispondere nel rimborso di questo debito che prima o poi ci toccherà, mi sembra proprio sbagliato. Martini Antonelli, però ripeto, nessuno Stato finora l'ha chiesto. È significativo questo secondo voi oppure no? Antonelli. Sì, secondo me è abbastanza significativo. Tra l'altro vedevo che in Spagna stavano sollevando delle eccezioni riguardo delle condizionalità, anche addirittura sullo stesso Recovery Fund. Il Paese ha sollevato un pochettino la polemica. Quindi è chiaro che il tema è sul tappeto e in Italia non sarà assolutamente di facile soluzione. Qua secondo me c'è un po' la questione di chi vede il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Probabilmente la verità sta nel mezzo perché si può dire sia che rimane qualche minima condizionalità, dopodiché si può senz'altro dire che è vantaggiosissimo. Anche se poi è vero che adesso i tassi di interesse sono abbastanza bassi e quindi ci potrebbero essere altre forme di finanziamento. Però è chiaro, poi sai, quando il dibattito diventa ideologico e politico tutto si complica e anche le cose più semplici diventano complicatissime. Secondo me non se ne esce fino a quando non ci sarà a novembre il congresso degli Stati Generali dei 5 Stelle. Fabio Martini. Il MES è uno sportello che è aperto da, credo, metà giugno, quindi da più di tre mesi. Quindi è disponibile. Sono soldi in prestito. Come saranno in prestito i 127 miliardi? La gran parte, diciamo, dei miliardi del recovery fund. No, perché complessivamente sono 209. Ma quelli che l'Italia ha annunciato di volere tutti, e lo ha fatto nel recente documento, e quelli arriveranno fra un anno. Questi sono disponibili subito e si sarebbero potuti spendere in tamponi che sono mancati anche per motivi finanziari e finanziari, non solo organizzativi, e per tutte le spese che ora stanno diventando impellenti. Ecco, ognuno poi valuta per conto proprio, ma il MES è uno sportello aperto che già poteva essere disponibile. E invece il recovery fund sarà disponibile fra un anno. Forse. Prestito, forse. Sempre prestito. Ma questo palleggio dura da mesi, senza una decisione definita. Quindi è evidente che siamo alla vigilia di una decisione, ci saranno questi tratti generali dei 5 Stelle, dopodiché si deciderà. Ma torniamo a Bomma. Secondo te il governo può rischiare davvero su questo punto, su questo snodo? Cioè può. Certo che può, perché i 5 Stelle sono contrari. Ma sta considerando che appunto ha bisogno in qualche modo sminarla la questione. Cioè ci vuole una soluzione che non metta a rischio la sopravvivenza dell'esecutivo in un momento come questo. No, ma non esiste una crisi di governo in una situazione sanitaria così seria e poi anche sociale, perché appunto... Ma questi soldi che bisogna chiedere all'Europa i progetti da presentare, cioè sarebbe, no? Esattamente. Quindi si troverà sicuramente una soluzione, un compromesso che per esempio nessuno ne parla o forse se ne parla nelle segrete stanze. Ma una possibilità sarebbe quella di accedere al Messe in una quantità non pari al tetto, anche perché l'erogazione avviene mensilmente, non viene in un'unica tranche. E quindi, chissà, magari il compromesso è anche sulla cifra. Insomma, bisogna aspettare... E questo, come dire, è paradossale che in una situazione così difficile, con tante persone in ansia, in angoscia per la propria salute, occorra aspettare i riti della politica. E guarda caso proprio di quel partito che ha fatto la sua fortuna nella denuncia di una certa ritualità, stanchezza della politica. Ora aspettiamo tutti il congresso dei 5 Stelle.